Extra consolida il suo radicamento nelle marche e grazie ad una nuova acquisizione conferma il suo ruolo di riferimento di utility energetica del centro Italia. Tutti soddisfatti per un'acquisizione che conferma la presenza ad Ancona del gruppo Extra tra gli operatori leader nel centro Italia per la distribuzione e vendita di gas naturale nella nostra regione. Extra Clima, società del gruppo che opera nel settore dell'efficienza energetica e delle rinnovabili ha acquisito la società a responsabilità limitata Termas, proprietaria di una centrale cogenerativa abbinata ad una rete di teleriscaldamento situata nel capoluogo d'Orico. Una centrale con tre generatori di calore e due impianti di cogenerazione stesa per oltre 4,5 km al servizio di utenze pubbliche e private, tanto per citare un nome, l'ospedale Inca di Ancona. Confermato l'impegno a favore del territorio senza guardare solo agli affari. È un'operazione importante anche perché ci rafforziamo come multi utility anche in questo territorio che ormai è diventato un territorio di elezione perché le marche con Ancona, con il nostro socio Viva Servizi rappresentano un focus assolutamente importante. Nel dettaglio l'operazione Termas aggiunge qualcosa di rilevante a una società che già opera in maniera notevole perché si tratta di un acquisto di un impianto, di un cogeneratore che attraverso una rete di teleriscaldamento serve tutta una serie di soggetti pubblici e privati. In questo modo si è data una risposta a decine di utenti che, proprietari di un appartamento o un'attività con impianto di teleriscaldamento, correvano il rischio concreto di dover spendere migliaia di euro per riconvertirlo. L'operazione è importante perché garantirà a centinaia di famiglie la continuità e la certezza del servizio da un lato e dall'altro per altri versi addirittura il rilancio anche dell'attività. Quindi da questo punto di vista è un'operazione in cui vincono tutti, come si dice. Non è stato semplice, gli ostacoli da superare sono stati tanti, così come si è assistito a battute d'arresto ma alla fine l'obiettivo è stato centrato. È stata un'operazione molto complessa, è stata un'operazione che in diversi momenti ha visto importanti stati di arresto ma devo dire che è stato fondamentale il lavoro di squadra di tutte le imprese presenti sul territorio. Soltanto insieme e uniti siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Per la società di servizi energetici del gruppo Extra, Extra Clima, una preziosa opportunità per veicolare le proprie competenze e conoscenze sull'uso e la gestione degli impianti di teleriscaldamento abbinati a cogenerazione. I vantaggi sono in dubbi. Da un punto di vista energetico ovviamente è una modalità molto efficiente quindi ha delle ricadute positive anche da un punto di vista ambientale. E dal lato del cliente finale ovviamente ci sono in dubbi vantaggi non solo economici ma anche appunto gestionali perché in pratica il cliente a questo punto può disporre di energia termica sotto forma di acqua calda per il riscaldamento ma anche per l'acqua calda sanitaria senza incontrare quelle implicazioni, quelle complicazioni che sono proprie nella gestione e nella proprietà di una caldaia propria. Quindi sono vantaggi che poi nel tempo il cliente non potrà che valorizzare.